Qui vorrei segnare un secondo punto politico. I dati sulle condanne per i reati dei colletti bianchi, corruzione, peculato, riciclaggio, falso in bilancio, dimostrano che il rischio penale è infinitamente più basso di quello legato ai delitti più tradizionalmente commessi dalle mafie, nonostante tutti siano concordi nel segnalare un aumento esponenziale del fenomeno. Questa è la ragione per la quale mi sono impegnato così energicamente per rafforzare la risposta sanzionatoria e preventiva dello Stato e finalmente, proprio oggi, siamo riusciti a dare avvio al dibattito parlamentare, la legge sulla corruzione, dopo tanti, troppi rinvii.